Lino, siamo arrivati a una giornata importante, la vigilia del gran finale. Domani che cosa ci aspetta? Domani mattinata faremo un incontro con gli amministratori locali dei comuni che abbiamo attraversato per fare anche un po' il bilancio di questi primi mesi di attività degli sportelli. Sì, abbiamo aiutato delle persone, non tantissime, ma come dico sempre io, anche se risolviamo il problema di una persona abbiamo in parte fatto il nostro dovere. Vogliamo raccontare ai sindaci, agli amministratori le difficoltà, i problemi che ci hanno raccontato, che ci hanno raccolto, i problemi legati in gran parte al terremoto e alla ricostruzione. Faremo al tempo stesso un incontro con alcuni studenti delle scuole medie superiori di Rieti nel pomeriggio, incontro con la Proloquo e le associazioni di città ducale e poi alle ore 18 un'importante presentazione di un libro di un imprenditore della provincia di Reggio Calabria, anche lui scortato, che ha denunciato l'andrangheta e ci racconterà la sua esperienza, le sue difficoltà di poter continuare a lavorare in quel luogo, ma guarda caso il titolo proprio fa riferimento a quel rispetto che di solito è quello che chiedono i mafiosi, ma invece il rispetto è dato alle persone che hanno avuto il coraggio di denunciare. Poi avremo una pericena che ci è stata offerta gentilmente al comune di città ducale e poi una performance che ci porterà avanti con letture, docufilm e musica prodotta da gruppi locali che abbiamo invitato a darci una mano. E allora tutti insieme con il camper itinerante di Strada Facendo SOS Impresa Lazio, domani tutti a città ducale per guidare insieme, più forte che mai, basta davvero stop usura.